È pericoloso, noi abbiamo paura. Siamo 22 monache, ma viviamo sempre con un po' di ansia, che non capita qualcosa di non bello. È l'ultimo cedimento. Questa volta sono stucchi che sono venuti giù nella bella chiesa del complesso di San Biagio e di Aversa. Tanto spavento, ma nessun danno alle persone, perché attualmente è chiusa al pubblico, ma non alle preghiere e meditazioni delle monache benedettine di clausura. Stessa situazione di pericoli per altre cinque chiese della provincia, tutte chiuse da anni per inagibilità, un patrimonio da salvaguardare. Quali sono i problemi maggiori da affrontare? Della infiltrazione detti dai campanili che strutturalmente hanno avuto mancanza di manutenzione negli anni, quindi ci sono stati crolli. Le opere d'arte, soprattutto le opere d'arte cristiane, raccontano il patrimonio dell'Italia. L'Italia è famosa nel mondo per le belle opere, per le grandi opere che abbiamo. Gioielli d'arte che appartengono al FEC, il patrimonio del Fondo Edifici di Culto, un ente del Ministero dell'Interno. Chiese che ritorneranno a risplendere fruibili grazie al Piano Nazionale dei Fondi e del Recovery Fund, sostenuto dalla Prefettura di Caserta. Siamo stati, dopo la nostra attivazione, tra i più beneficiati. 5 milioni e 2 complessivamente su un finanziamento nazionale di 95 milioni di euro. Schede tecniche pronte. Adesso si attende la disponibilità certa dei finanziamenti per il restauro conservativo di queste nostre bellezze sacre. Grazie. Grazie.